Grazie. Proviamo con One Click. Un solo click per determinare il punto di fusione. Un solo click per misurare l'indice di rifrazione. Un solo click per misurare il grado alcolico in base alla densità. Un solo click per titolare. Grazie al sistema One Click di Metler Toledo, Paul è in grado di utilizzare diversi strumenti facilmente e senza errori. Grazie.